Satana rivela agli esorcisti il suo piano diabolico per distruggere l'umanità. Prima parte. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi delle rivelazioni che Satana ha fatto, chiaramente dietro comando degli esorcisti, circa i suoi piani diabolici per distruggere l'umanità. In particolare Domenico Mondrone ha rivelato che Satana, dietro suo comando, gli ha rifatto queste rivelazioni. Non vedi che il suo regno, il regno di Dio, si scretola e il mio si allarga giorno per giorno sulle rovine del suo. Provate a fare il bilancio tra i suoi seguaci e i miei, tra quelli che credono nelle sue verità e quelli che seguono le mie dottrine, tra quelli che osservano la sua legge e quelli che abbracciano le mie di leggi. Pensa soltanto al progresso che sto facendo per mezzo dell'ateismo militante, che è il rifiuto totale di Dio. Ancora poco tempo e il mondo cadrà in adorazione dinanzi a me, sarà completamente mio. Pensa alle devastazioni che sto portando in mezzo a voi, servendomi principalmente di tante anime che sono a lui consacrate e che sono la luce più radiosa e che mi infastidiscono al di là di ogni dire. Non sono le lampadine spente dei poveri peccatori ad impensierirmi. Perciò io mi scateno contro coloro che sono fedeli a Dio. Ingaggio contro di loro una lotta furibonda. Ho scatenato nel gregge della chiesa uno spirito di confusione e di rivolta che mai finora ero riuscita ad ottenere. Ed anche tutti coloro che cercano di chiacchierare, di gridare, di blaterare, di richiamarvi sulla retta via. Ma chi li ascolta? Io ho tutto il mondo che ascolta i miei messaggi e li applaude e li segue. Ho tutto e tutti dalla mia parte. Ho le cattedre con le quali ho dato scacco alla vostra filosofia. Ho con me la politica che vi disgrega. Ho l'odio di classe che vi dilacera. Ho gli interessi terreni, gli ideali di un paradiso di terra che vi accanisce gli uni contro gli altri. Vi ho messo in corpo una sete di denaro e di piaceri che vi fa impazzire e che vi sta riducendo in una cozzaglia di assassini. Ho scatenato in mezzo a voi una sessualità che sta facendo di una sterminata mandria di porci. Ho la droga che presto farà di voi una massa di miserabili larve, di fogli e di moribondi. Vi ho portati a ottenere il divorzio per scretolare le vostre famiglie. Vi ho portati a praticare l'aborto con cui fate strage di uomini prima che nascano. Tutto quello che può rovinarvi non lo lascio intentato e ottengo tutto ciò che voglio. Ingiustizie a tutti i livelli per tenervi in continuo in uno stato di esasperazione. Guerre a catena che devastano tutto e vi portano al macello come pecore. E insieme a questo la disperazione di non potersi liberare dalle sciagure con le quali devo portarvi alla distruzione. Io conosco fin dove arriva la stupidità degli uomini e la sfrutto fino in fondo. La redenzione di quello che si è fatto ammazzare per voi bestie che non siete altro. Alla sua redenzione ho sostituito quella di governanti massacratori e voi vi buttate al loro seguito come stupidissime pecore. Con le mie promesse di cose che non avrete mai sono riuscito ad accecarvi a farvi perdere la testa fino a portarvi facilmente dove voglio. Ricorda che io vi odio infinitamente come odio colui che vi ha creati. In un secondo momento mi lavorerò uno per uno tutti coloro che vi conducono come pastori di voi che siete il loro grecce. Oggi il concetto di autorità non funziona più come una volta. Sono riuscito a dare ad esso uno scossone irreparabile. Il mito dell'ubbidienza sta tramontando. Per questa via la chiesa sarà portata alla polverizzazione. Intanto vado avanti con la decimazione continua di tutti i religiosi fino ad arrivare allo spopolamento totale dei seminari e dei conventi. Tolti di mezzo i suoi operai alla vigna, subentreranno i miei operai e avranno via libera nel loro lavoro definitivo. A me preme di incrementare il numero dei religiosi che passano dalla mia parte. Sono i migliori collaboratori del mio regno. Molti non credono più a ciò che si fa sull'altare. Molti di essi li ho attirati nei miei templi al servizio dei miei altari a celebrare le mie messe. Vedessi che meravigliose liturgie ho saputo imporre loro a sfregio di quelle che celebrate nelle vostre chiese. Sì, le mie messe in cui vengono celebrati dei sacrifici umani. Quelli legati all'amicizia di Gesù. Quelli che gli riesce a conservare sempre suoi. Quelli che lavorano e si consumano per i suoi interessi. Che zelano la sua gloria. Un malato che per gli amici soffre e si offre per gli altri. Un prete che si conservi fedele. che preghi molto. Che non si sia mai fatto contaminare. Che si serve della messa. Di quella tremenda maledettissima messa per farci un male immenso e strapparci una moltitudine di anime. Ebbene questi sono per noi gli esseri più odiosi. Quelli che maggiormente pregiudicano gli affari del nostro regno. I vostri giovani. Guarda, guarda, che spettacolo meraviglioso. È tutta gioventù passata dalla mia parte. Gioventù mia. Molta l'ho irretita con la lussuria, con la droga, con lo spirito del materialismo ateo. Quasi tutti sono venuti senza i soliti sciacqui battesimali. Questi giovani sono passati attraverso scuole programmate su ateismo sindacale. Lì hanno imparato che non è stato quello di lassù a creare l'uomo. Ora sono agguerriti a una lotta attiva contro Dio che resiste a scomparire. Ma scomparirà. È fatale. Questi miei giovani hanno imparato a disfarsi di tutte le cosiddette verità eterne. Per essi esiste solo il mondo materiale e sensibile. È stato un gigantesco lavaggio del cervello e ci serviremo di questo per tutti coloro che usassero ancora a tenersi aggrappati alle vecchie credenze. Dio deve scomparire in modo assoluto dalla faccia della terra. Presto verrà il giorno che neppure il suo nome verrà ricordato. Le poche cose di resistenza che non riusciremo a eliminare con la nostra filosofia. Li annienteremo col terrore. Ci sono per i resti decine e decine di lager dove li manderemo a marcire. Così per tutti i paesi della terra. Uno dopo l'altro devono cadere ai miei piedi. Abbracciare il mio culto. Riconoscere che l'unico signore del mondo sono io.